ciao a tutti oggi parleremo di impianto fotovoltaico in camper per praticità divideremo l'argomento in due parti separate quindi in due video distinti nel video di oggi parleremo di cos'è un impianto fotovoltaico a cosa serve quindi come è composto un impianto fotovoltaico parleremo delle differenze tra i vari moduli fotovoltaici daremo dei cenni su come procedere a dimensionare correttamente il proprio impianto fotovoltaico infine vi mostreremo come è costituito il nostro impianto fotovoltaico nel secondo video quindi nel video successivo parleremo di come procedere all'installazione dell'impianto fotovoltaico e infine vi faremo vedere anche come noi invece abbiamo proceduto con l'installazione del nostro impianto ma bando alle ciance partiamo subito con l'argomento di oggi ma prima una doverosissima premessa tutti sappiamo che a bordo del nostro camper sostanzialmente le fonti di energia elettrica sono 4 avremo quindi il banco delle batterie dei servizi composto da uno più batterie dei servizi avremo il nostro alternatore del motore potremmo avere l'allaccio alla rete elettrica esterna e infine potremmo avere un generatore di corrente questo rappresenta le quattro tipologie principali di di energia elettrica in realtà non sono le sole addirittura oggi si parla già di eolico in questo momento ci torniamo in toscana probabilmente oggi servirebbe parlare più di eolico che di fotovoltaico visto il vento che c'è fuori però sostanzialmente le quattro tipologie principali sono quelle che vi ho elencato ovviamente tutte e quattro sono interconnesse tutte e quattro contribuiscono al loro modo a fornire energia elettrica al nostro camper ma di fatto tutte e quattro hanno i loro pregi ma anche i loro difetti partiamo per esempio dal banco delle batterie dei servizi ci garantisce autonomia in base alla loro capacità di accumulo e derogazione ma di fatto il banco delle batterie dei servizi è destinata a desauristi se non viene ricaricato da qualcosa ovviamente questo con l'utilizzo e con l'impiego l'alternatore l'alternatore ci dà sempre corrente ogni volta che accendiamo il motore questo è un pregio ma di contro ci vincola all'accensione del motore quindi non avremo corrente sempre a disposizione se non accendo il mio motore ovviamente questo rappresenta un limite ed un difetto di questo sistema di ricarico ovviamente il sistema di ricarica che mi permette di ricaricare le mie batterie grazie alla presenza di un relè paradoratore di un DC DC converter argomenti di cui comunque poi parleremo separatamente in un altro video la terza fonte che abbiamo di cui vi ho parlato è quella della rete elettrica esterna anche questa ha i suoi difetti perché non potrebbe essere sempre disponibile magari siamo abituati a fare la sosta libera quindi non ce l'abbiamo neanche la ricerchiamo potrebbe quindi non essere disponibile presente per cui anche quella ha il suo limite stessa cosa per un generatore di corrente è rumoroso quindi non è impiegabile in tutte le situazioni possiamo non averlo se ce l'abbiamo può non funzionare quindi anche il generatore di corrente ha i suoi limiti quindi la domanda è è necessario dotarsi di un impianto fotovoltaico in camper serve sempre la risposta è dipende la prima facciamo alcuni esempi per rendere meglio il concetto se sono un camperista abituato a sostare sempre in aree attrezzate e comunque in aree in cui è presente l'allaccio alla rete elettrica esterna ecco che un impianto fotovoltaico effettivamente potrebbe rivelarsi superfluo perché avrò sempre a mia disposizione una fonte di energia rappresentata in questo caso dalla rete elettrica esterna c'è da dire che anche in questi casi per un piccolo impianto fotovoltaico potrebbe rivelarsi utile soprattutto per chi è abituato nei periodi magari invernali a rimessare il proprio mezzo all'aperto per lunghi periodi ecco che in quelle specifiche circostanze avrà anche un piccolo modulo fotovoltaico mi permetterebbe comunque di generare energia elettrica sempre per tenere in buono stato di salute il mio banco delle batterie dei servizi comunque anche per provare a tenere in buono stato di salute la mia batteria del motore magari tramite la presenza di un parallelatore di carica però riassumendo per chi è sempre abituato ad avere l'allaccio alla rete elettrica esterna un impianto fotovoltaico in effetti abbastanza superfluo perché durante la marcia lo dico ancora una volta userò il mio alternatore quando sono fermo mi attacco alla colonnina elettrica il problema delle energie elettriche è di fatto abbastanza risolto discorso un attimino diverso per chi invece è abituato a sostare normalmente in sosta libera per chi lo fa per due giorni per chi lo fa per una settimana per chi vive in camper ecco sono tutti i casi quindi tutti i casi in cui non avrà a disposizione una fonte esterna che sia rappresentata appunto da una rete elettrica esterna ecco sono tutti i casi in cui effettivamente dotarsi di un impianto fotovoltaico direi che non è consigliabile ma è del tutto fondamentale così come si rivela anche fondamentale che quello specifico impianto sia correttamente dimensionato a questo punto partiamo subito dicendo cos'è un impianto fotovoltaico bene un impianto fotovoltaico è un sistema composto da uno o più moduli fotovoltaici da un regolatore di cariche dal nostro accumulatore che nel nostro caso è il nostro banco delle batterie dei servizi ed è appunto un sistema che sfruttando l'energia solare mi permette di produrre energia elettrica partiamo quindi dai moduli fotovoltaici cosiddetti pannelli solari questi sono costituiti da celle in silicio che è un materiale in grado di sfruttare l'irraggiamento solare per produrre energia elettrica sostanzialmente in commercio avremo tre tipologie di pannelli solari impiegabili per i nostri camper avremo quindi i pannelli solari cosiddetti monocristallini i pannelli solari policristallini e infine i pannelli solari in silicio amorfo un pannello monocristallino sarà visivamente molto ben riconoscibile grazie insomma alla presenza di celle in silicio monocristallino dai contorni ben definiti dagli angoli smussati avrà un colore molto scuro tendente al nero e presentare una resa energetica superiore rispetto alle altre due tipologie per via insomma della maggior purezza del silicio che compone ciascuna cellula e per via dell'orientamento dei vari cristalli di silicio all'interno della cellula orientamento che sarà uniforme quindi con i cristalli tutti orientati nella stessa direzione ecco questa particolare caratteristica di orientamento farà sì che un pannello monocristallino renderà meglio in condizioni di irraggiamento ottimale quindi con irraggiamento solare perpendicolare rispetto all'orientamento di ciascuna cella questa maggior purezza questa resa energetica maggiore del pannello monocristallino rispetto alle altre due tipologie fa sì che a parità ecco di potenza un pannello monocristallino avrà un ingombro ed una superficie quindi il modulo avrà una superficie delle dimensioni inferiori rispetto alle altre due tipologie così come ovviamente a parità di superficie un pannello monocristallino avrà una resa energetica quindi una potenza ecco superiore per quanto riguarda un po' i contro di questa tipologia di tecnologia fotovoltaica ecco un modulo fotovoltaico monocristallino risentirà molto di quelle che sono le alte temperature quindi se surriscaldato renderà un po meno rispetto alle altre due tipologie così come normalmente anche se ormai più o meno i costi si equivalgono un pannello monocristallino avrà dei costi leggermente superiori rispetto ad un polio cristallino ad uno in silicio morfo ovviamente tutto questo a sistema con quella che poi la casa e l'azienda produttrice di ciascun pannello per cui evidentemente sicuramente troveremo dei pannelli policristallini che costeranno di più rispetto a un monocristallino ma questo ovviamente perché quella specifica azienda sarà un'azienda che produce i propri moduli con materiali migliori con più attenzione quindi ecco che anche lì la differenza potrebbe essere dettata dall'azienda costruttrice è chiaro che come tutti i prodotti presenti in commercio ci saranno delle aziende più gettonate delle aziende che produrranno dei prodotti di maggior qualità rispetto ad altre come ci suggerisce il nome i pannelli policristallini saranno costituiti da celle in silicio policristallino quindi un silicio meno puro ma soprattutto da celle costituiti da cristalli di silicio orientati un po all'aria infusa quindi con un orientamento non uniforme un orientamento disordinato questa caratteristica farà sì che a parità di potenza un policristallino avrà una superficie superiore rispetto ad un monocristallino così come a parità di superficie la resa energetica di un policristallino sarà inferiore rispetto ad un monocristallino visivamente saranno ben riconoscibili dalla presenza di celle ben squadrate da un colore generale un po più tenue rispetto ad un monocristallino sarà tendente un po al blu la particolare caratteristica dell'orientamento alla rinfusa dei cristalli di silicio all'interno di ciascuna cella però rappresenta anche il punto di forza di questa tecnologia infatti anche in condizioni di raggiamento solare non ottimale ci sarà sempre qualche cristallo pronto a raccogliere un po di energia ecco solare e questa caratteristica si rivela molto importante nei periodi di l'anno in cui appunto l'irraggiamento solare non è ottimale per esempio in inverno ed autunno quindi in condizioni di raggiamento non ottimale un policristallino renderà normalmente meglio rispetto ad un monocristallino ecco quindi abbiamo parlato di rendita migliore in condizioni di raggiamento non ottimale minor costo un'altra caratteristica importante del policristallino e che in condizioni di surriscaldamento renderanno meglio rispetto ad un monocristallino infine i pannelli in silicio amorfo presenteranno una superficie non uniforme saranno costituiti da un sottilissimo strato di silicio parliamo di frazioni di millimetro adattato e appoggiato su uno strato di materiale plastico bene questa loro particolare caratteristica renderà questo pannello flessibile facilmente adattabile al tetto del nostro camper ma di contro presentare una resa energetica molto inferiore rispetto alle altre due tipologie parliamo a volte di circa il 20 30 per cento in meno naturalmente anche il loro ingombro vista la minore resa energetica sarà molto più generoso quindi saranno più grandi a parità di potenza rispetto alle altre due tipologie di pannelli a questo punto viene da chiedersi quale tra le tre tipologie scegliere a questa domanda in effetti non c'è una risposta definitiva ecco di fatto dovrete far conto un po con quello che è il vostro budget considerando che comunque ad oggi la tecnologia fotovoltaica è economicamente molto più accessibile rispetto che al recente passato dovrete anche fare il conto al di là di quanto ho detto fino adesso con quella che è la qualità dei prodotti perché a parità di potenza e di tecnologia costruttiva un pannello costarà più di un altro e questo sarà in relazione a quella che è la ditta costruttrice che potrà essere più o meno seria nella produzione dei propri prodotti ad ogni modo sintetizzando in ultima analisi mi sentirei di suggerire di orientare la propria scelta o tra un pannello policristallino o tra un pannello monocristallino scartano per adesso quelli in silicio amorfo che comunque potranno avere applicazioni diverse all'interno dei nostri camper anche perché le tecnologie poli e monocristalline in effetti con i loro pro e loro contro si equivarranno abbastanza così anche come in termini economici ormai oggi le due tecnologie si equivalgono ecco abbastanza però al di là di questo la vera considerazione che dovrete fare da qui non si scappa e che detta di fatto legge e che detta la legge sulla vostra scelta è quella degli spazi a disposizione sul vostro tetto perché è in funzione di quelli che voi dovrete orientare la vostra scelta pertanto dovrete valutare prima lo spazio che avete a disposizione sul vostro tetto e poi in funzione di quello scegliere il pannello di cui dotarvi che sia mono o policristallino in realtà la differenza sarà veramente minima anzi come dicevamo all'inizio in alcune condizioni il policristallino potrà rendere meglio di un monocristallino però sarà importante per capire quale dovrà essere l'ingombro massimo del nostro modulo dei nostri moduli fotovoltaici parlando e restano sempre in termini in termini di moduli fotovoltaici prima di passare all'argomento successivo ricordiamoci che un pannello solare per camper normalmente avrà una tensione di 12 volte con attenzione nominale di 12 volte sono pannelli fotovoltaici 12 volte poi vedrete che lavorando la loro tensione si alzerà circa 17 18 volte però sostanzialmente parlando di modi fotovoltaici in camper distingueremo due tipologie di pannelli avremo quelli 12 volte e quelli che normalmente vengono utilizzati nelle abitazioni civili ovvero a 24 volte ecco questo ci tengo a specificarlo perché spesso noi camperisti ci facciamo un po fregare perché tendiamo a acquistare dei kit fotovoltaici in cui il modulo è un modulo fotovoltaico a 12 volte perché ci viene detto la tua batteria dei servizi 12 volte quindi compra un pannello solare a 12 volte il che si può rivelare in determinate condizioni giusto ma non sempre lo è come orientarsi in questo mondo allora normalmente i kit fotovoltaici per camperisti 12 volte costano molto di più rispetto ad un pannello solare civile quindi da abitazione a 24 volte questo perché ovviamente ci si lucra un po' quindi ecco viene venduto il kit completo composto dal modulo dal regolatore insomma dal cablaggio e quindi un po' su questo ci si lucra però il consiglio personale che mi sento di dare è quello se si può di optare per una tecnologia di pannello a 24 volte che è un po' quello che abbiamo fatto noi noi abbiamo acquistato un pannello monocristallino da 315 watt a 24 volte che poi più avanti ve ne parlerò che abbinato ai successivi sistemi dell'impianto fotovoltaico permettono di avere una grandissima resa rispetto a 12 volte ma soprattutto in termini conosci non c'è stato paragone ecco per dare qualche dato il nostro pannello da 315 watt monocristallino a 24 volte è stato pagato circa 120 euro provate adottarvi un impianto fotovoltaico 12 volt monocristallino da 315 watt già fatto e raccontateci poi cosa avete speso quindi 12 volte 24 volte le due tipologie di pannelli che potete trovare il suggerimento è quello di orientarvi a 24 volte se li trovate ma soprattutto perché sono pannelli che normalmente costano molto meno un altro consiglio è quello di evitare l'acquisto di kit fotovoltaici già pronti quindi modulo fotovoltaico regolatore di carica e cablaggio perché normalmente costaranno molto di più rispetto all'acquisto separato di ciascun componente nel nostro impianto fotovoltaico non abbiamo parlato di collegamenti in serie o parallelo non appena decidiamo di dotarci di più di un modulo fotovoltaico dedicheremo un video doc su questo argomento ad ogni modo una rapidissima considerazione suggerimento è quello che se decidete di dotarvi di più di un modulo fotovoltaico quindi almeno due pannelli solari il consiglio è quello di collegarli in ecco in parallelo qualora decidiate di montare distanziati tra di loro i due pannelli solari o di collegarli in serie qualora i due pannelli solari saranno montati molto vicini tra loro sul tetto per tutta una serie di considerazioni che comunque approfondiremo in in un altro video a questo punto parliamo del secondo elemento che costituisce il nostro impianto fotovoltaico fino adesso abbiamo parlato di moduli fotovoltaico adesso introduciamo il secondo elemento che è quello del regolatore di carica poco fa dicevamo che un pannello perché un pannello fotovoltaico in generale potrà essere a 12 volt a 24 volt nel caso di 12 volte lavorerà normalmente con una tensione di circa 17 18 volte nel caso di un 24 volte lavorerà con una tensione di circa 33 34 volt comunque in base all'irraggiamento solare ma le tensioni più o meno ecco sono quelle il nostro banco batterie e servizi normalmente un banco batterie a 12 volt ci rendiamo conto che se il nostro modulo fotovoltaico se il nostro pannello solare erogasse la corrente prodotta con le tensioni che produce quindi che siano 17 18 volte nel caso di pannelli a 12 volt o 33 34 volte nel caso di pannelli a 24 volte ecco quelle tensioni sarebbero sicuramente dannose alla lunga ma anche nel breve nel brevissimo periodo per il nostro banco batterie e servizi perché sarebbero troppo levate e andrebbero inevitabilmente a danneggiare le nostre batterie dei servizi pertanto l'energia prodotta dal modulo fotovoltaico e la tensione di quella corrente necessita di un dispositivo di un qualcosa che appunto regoli quella tensione e questo lavoro in effetti viene fatto dal regolatore di carica che è un dispositivo che verrà installato tra il pannello solare e il nostro banco delle batterie di servizi come ci suggerisce il nome stesso il regolatore di carica non farà altro che regolare la carica proveniente dal nostro pannello solare una carica che avrà appunto una tensione molto superiore rispetto a quella accettabile dal nostro banco delle batterie di servizio 12 volt dicevo quindi regolerà quella tensione la taglierà fino ad un livello accettabile per la ricarica delle nostre batterie quindi fino a portare ad un livello di tensione di ricarica ed accettabile e la farà quindi uscire dal proprio interno verso il banco delle batterie servizi con un livello adeguato per la per la ricarica e questo è un po il lavoro che fa il nostro regolatore di carica il regolatore di carica all'interno di un impianto fotovoltaico in effetti al di là della qualità e della tecnologia dei nostri pannelli solari riveste probabilmente il ruolo più importante il ruolo fondamentale per la resa energetica del nostro impianto infatti un buon regolatore di carica permetterà di sfruttare bene la carica prodotta dal nostro pannello dei nostri pannelli sonari un buon regolatore di carica eviterà sprechi di energia prodotta e quindi proprio per questo motivo avremo differenti tipologie ecco di regolatore di carica ma principalmente avremo due tipologie di regolatore di carica avremo quindi i regolatori di carica cosiddetti mpp t dove mpp t sta per maximum power point tracking oppure avremo i regolatori di carica pvm ovvero pulse width modulation adesso approfondiamo le due tipologie partiamo prima però dalla seconda tipologia ecco il regolatore di carica pvm prima però una rapidissima premessa ricordiamoci che una corrente elettrica per quello che interessa a noi sarà denotata da due dati tensione di lavoro intensità di corrente il cui prodotto citarà la potenza quindi watt uguale volt per ampere bene un regolatore pvm non farà altro che prendere la corrente prodotta dal nostro pannello solare così come al suo ingresso quindi dal pannello solare ecco quella corrente identica quell'intensità di corrente quei ampere li farà uscire identici verso il mio banco delle batterie di servizi semplicemente andandoli a tagliare in termini di tensione in modo da avere la tensione adeguata per ricaricare le nostre batterie facciamo un esempio più pratico per rendere l'idea io un pannello monocristallino da 100 watt ipotizziamo che quel pannello stia dando la massima resa quindi stia rendendo 100 watt e che sia un pannello a 12 watt 12 volt nel suo massimo nella sua massima resa produrrà 100 watt che in termini di tensione saranno circa 18 volt per 5,6 ampere totale se fate il prodotto mi da 100 watt ecco quei 5,6 ampere entreranno all'interno del mio regolatore pvm e il regolatore farà uscire nella stessa identica maniera 5,6 ampere verso il mio banco delle batterie di servizi con la differenza però che la tensione non sarà di 18 volt ma ipotizziamo essere circa 14 volt quindi sarà tagliata per essere adeguata alle mie batterie di servizi quindi in uscita dal mio regolatore pvm usciranno sempre 5,6 ampere ma a 14 volt se provate a fare il prodotto 5,6 per 14 mi da circa 80 watt quindi questo cosa ci dice che la potenza generata dal mio pannello che è di 100 watt in afflusso alle mie batterie alla fine non sarà di 100 watt ma di 80 watt quindi avrò avuto una perdita energetica di circa il 20 per cento il discorso è diverso invece se ci dotiamo di un regolatore di carica in tecnologia MPPT cosa farà questo regolatore di carica? il regolatore di carica non ragionerà come il pvm dove la corrente in ingresso è uguale a quella in uscita ma ragionerà in termini di potenza perché sarà in grado di ritracciare sempre quello che è il punto massimo di potenza prodotto dai nostri pannelli quindi la potenza in ingresso verso il mio regolatore MPPT dovrà essere identica alla potenza in uscita proviamo a fare ecco un esempio per renderci conto del concetto allora potremmo avere il pannello di prima da 100 watt sempre in tecnologia 12 volt quindi sta producendo nel suo punto di massima resa 18 volt 5,6 ampere ecco 18 volt 5,6 ampere entreranno nel mio regolatore MPPT cosa farà poi il regolatore? non farà uscire 5,6 ampere a 14 volt ma farà uscire 100 watt ovvero farà uscire a 14 volt che è la tensione adeguata per la mia batteria di servizi ma dovendo rendere sempre 100 watt non saranno più 5,6 ampere ma saranno circa 7,2 ampere quindi ci rendiamo conto che un MPPT avrà la massima resa quasi prossima al 100% nel nostro esempio nel nostro pannello da 100 watt a 12 volt nel primo caso nel PWM arriveranno a 5,6 ampere nel caso del MPPT alle nostre batterie arriveranno circa 7,2 ampere il che tradotto vuol dire avere una ricarica maggiore del nostro banco delle batterie dei servizi facciamo ancora un altro esempio ci spostiamo con il monitor remoto col quale appunto riesco a controllare quelli che sono i valori prodotti dal mio impianto fotovoltaico scattiamo una fotografia ci risediamo e proviamo a fare due conti insieme adesso guardando la fotografia qui sul video noterete che io ovviamente sono equipaggiato con un regolatore di carica MPPT quindi dal mio pannello solare che nel mio caso è a 24 volt quel pannello in questo momento sta producendo una corrente di 1,8 ampere con una tensione di 38,1 volt il prodotto mi darà 68,5 circa watt che è la potenza che sta producendo in questo momento il mio pannello solare ecco quella potenza entrerà nel mio regolatore MPPT e come vedete dalla fotografia e dal regolatore verso le batterie stanno uscendo 4,9 ampere quindi non 1,8 a 13,7 volt facendo il prodotto mi dà anche qui 67 watt praticamente una potenza quasi identica rispetto a quella al suo ingresso e questo rende molto l'idea di come funziona un MPPT ma soprattutto perché un MPPT in realtà è assolutamente preferibile per non avere dispendi energetici e soprattutto per avere maggiore autonomia in termini di energia elettrica rispetto appunto ad un PWM anche in questo caso ci viene da chiedere quale tra i due scegliere ecco proviamo a sintetizzare la risposta nel caso in cui siamo equipaggiati con un singolo pannello a 12 volt il PWM potrà ancora andare bene perché la perdita in termini di resa energetica sarà ancora ridotta se invece dovessimo avere un pannello solare da 24 volt o due pannelli a 12 volt o più di due pannelli collegati in serie tra di loro quindi parliamo di tensioni maggiori vada a sé che se abbiamo capito come funzionano le due tipologie di regolatore il PWM avrà delle perdite energetiche quasi inaccettabili quindi l'MPPT diventerà quasi un obbligo ovviamente tutto ciò si riverserà su quelli che sono i costi un PWM costerà sempre meno rispetto ad un'MPPT e soprattutto come al solito non lasciamoci fregare da camperisti ecco l'MPPT proprio per gli algoritmi elettronici e per i dispositivi elettronici contenuti al suo interno avrà delle dimensioni sempre molto più generose rispetto a un PWM quindi se dovessimo trovare un'MPPT particolarmente piccolo ecco iniziamo a ragionarci un po' sopra ecco però al di là di questo ricordiamoci che sia PWM o MPPT un regolatore di carica sarà in grado di gestire al suo ingresso dai pannelli in uscita verso le batterie una corrente massima corrente che sarà espressa normalmente in decine amperometriche quindi il nostro regolatore di carica potrà essere da 10A, 15A, 20A, 30A, 40A e via dicendo e quello indicherà quel valore quella che è la corrente massima che il regolatore è in grado di gestire sia al suo ingresso dai pannelli sia in uscita verso il mio banco delle batterie dei servizi a questo punto parliamo velocemente del corretto dimensionamento di un impianto fotovoltaico ecco dimensionare un impianto fotovoltaico vuol dire scegliere i suoi elementi costituenti quindi il modulo fotovoltaico, il regolatore e i carichi in maniera opportuna ma soprattutto in maniera compatibile con quelli che sono i propri consumi elettrici quindi il primo passo passa sicuramente dal calcolo e dalla stima dei propri consumi elettrici ne abbiamo parlato in uno dei video precedenti che se non avete visto tra l'altro invito a guardarvi comunque il primo passo vado a calcolare, a stimare i miei consumi elettrici fatto questo calcolo mi è già più semplice dimensionare il mio impianto fotovoltaico sicuramente non avrà senso dotarsi di un pannellone solare o di più pannelli solari giganteschi se poi il mio regolatore di carica non sarà in grado di gestire le correnti prodotte da quell'impianto fotovoltaico oppure non sarà in grado di ottimizzare quelle correnti oppure il mio banco delle batterie non sarà in grado di accumulare tutta quell'enorme energia prodotta sicuramente come diciamo sempre nell'ambito del dimensionamento il mio regolatore di carica in termini di capacità di gestione delle correnti dovrà essere opportunamente dimensionato in base alla potenza dei miei moduli fotovoltaici però per dare un po' di riferimenti vi parlo un po' di come è costituito invece il nostro impianto fotovoltaico che non è un impianto fotovoltaico top che però a noi che viviamo in camper in questo momento ci rende di fatto del tutto autonomi e indipendenti da un punto di vista di energia elettrica ecco il nostro impianto fotovoltaico in questo momento è costituito da un singolo pannello monocristallino da 315 watt in tecnologia 24 watt quindi il cosiddetto civile è un pannello che ci è costato circa 120 euro quindi pochissimo veramente poco che fa egregiamente il suo lavoro ed è un pannello che rende veramente veramente bene perché ho preso un singolo pannello da 315 watt perché quelli erano gli spazi che avevo sul tetto un singolo pannello ho trovato a buon mercato era un buon pannello non aveva necessità anche soprattutto per una questione di ingombri quindi di spazi di prendere magari due pannelli da 150 watt ho optato per un singolo pannello però per le considerazioni che facciamo un po' all'inizio del video in cui c'è da tener conto di quelli che sono gli spazi del nostro tetto il mio regolatore di carica è un regolatore MPPT un regolatore dell'EP-Ever, il tracer da 30A quindi con questo è un regolatore da 30A che è in grado di gestire le correnti generate dal mio pannello solare ecco con questa tipologia di pannello con il mio regolatore di carica e con un banco batteria costituito da due batterie AGM da 100Ah ciascuna per un totale di 200Ah in realtà in due persone con due cani che in realtà non consumano nulla siamo perfettamente in grado per il momento almeno di vivere in libera senza particolari problemi e questo sarà giusto per fornire un'idea su come può essere costituito e dimensionato un impianto fotovoltaico in realtà non c'è altro da aggiungere per cui questa prima parte del video termina qui vi aspettiamo adesso quindi con la seconda parte in cui parleremo di come si installa e di come installare praticamente un impianto fotovoltaico come al solito prima di salutarci vi ricordo che spero che il video vi possa essere stato utile quindi se il video vi è stato utile ecco lasciate un like iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto tra l'altro per chi non lo sapesse siamo attivi anche come account su Instagram sempre sotto al nome di vado a quel paese attivate il promemoira se non volete perdervi tutti i video successivi e nulla alla prossima aloha aloha